Benvenuti nel mondo incantato dei barboncini toy, dove il pelo soffice è solo uno dei tanti motivi per amarli. In questo viaggio, esploreremo non solo la storia e l'intelligenza di questi piccoli amici a quattro zampe, ma anche le caratteristiche del loro prezioso manto e peso piuma. Nel contesto delle parrucche e dei colletti dell'Europa del XVII secolo, i barboncini standard facevano la loro entrata trionfale nelle corti. Ma la vera magia iniziò quando gli amanti dei cani decisero di miniaturizzare questa razza, creando così il barboncino toy. Un incrocio di amore e selezione genetica ha dato vita a questi compagni di peluche dalle dimensioni perfette. La genetica alla base del barboncino toy non riguarda solo le dimensioni. Il loro pelo è come una cascata di morbidezza, con una varietà di colori e texture che incanterebbero anche il più esigente stilista canino. Dal pelo riccio a quello più liscio, ogni barboncino toy è una piccola opera d'arte pelosa. Oltre all'aspetto, la testa non scherza. I barboncini toys sono non solo adorabili ma anche intelligenti. L'addestramento è una passeggiata nel parco, o meglio, nel giardino. Possono prendere comandi con la stessa facilità con cui sfoggiano i loro peli eleganti. Un cane intelligente e stiloso, chi potrebbe resistere? E per quanto riguarda il peso, beh, diciamo che questi piccoli tesori sono leggeri come una piuma. Con un peso solitamente compreso tra i 2 e i 4 kg, i barboncini toys sono compagni da portare ovunque con la massima facilità. Sono la scelta ideale per chi ama la compagnia di un peloso leggero che può essere coccolato ovunque, anche nei tuoi momenti più pigri sul divano. Se il sorriso fosse un esercizio, i barboncini toys sarebbero la nostra palestra di felicità. Oltre a rendere la vita più leggera, il tempo trascorso con questi pelosi palla di pelo può anche migliorare la tua salute mentale e fisica. Sì, è una terapia a quattro zampe. E per chiudere in bellezza, Henriette Ronnernip amava dipingere barboncini toys nella sua arte. E come potrebbe resistere a immortalare quelle ciocche di pelo perfettamente disegnate e il peso piuma che fa sembrare questi cani veri e propri angeli pelosi. Questo adorabile cane è davvero una creazione magica di dimensioni, intelligenza, stile e pelo soffice. Ogni giorno con loro è una festa per gli occhi e le mani, con coccole e giochi che fanno bene all'anima.